20 partecipanti 20 20 persone che ci hanno seguito Non è poco 3, 2, 1, foto Grazie Gabriele Vengo subito Buongiorno Avevo in mente questo concetto Dalla finestra si guarda quello che c'è fuori E da fuori si guarda quello che c'è dentro Quando racconti fuori di genere Noi nel nostro condominio La T-Ruscia la facciamo da solo Ho girato Teletore 19 Questo documentario Perché avevo da tempo voglia di raccontare Le periferie italiane E in questo caso appunto L'abbiamo fatto grazie alla produzione Articolture Che ha creduto me nel mio progetto Scritto con Sofia Sirelli E poi anche perché c'era un bando Il bando Cine Periferie Che per fortuna abbiamo vinto E quindi ci ha permesso di realizzare questo documentario E' ambientato al pilastro In un quartiere che è stato storicamente definito difficile Ma in realtà gli abitanti hanno una gran voglia di rivincita in questo quartiere E ci sono tantissime cose belle Tante realtà interessanti Tra cui una realtà che mi ha colpito tantissimo Quella della TV condominiale In una torre In una delle torri del pilastro Esiste una vera e propria TV condominiale Fatta dai condomini E rivolta ai condomini Esiste dal 2001 Ci sono stati tanti programmi Fatti da loro e per loro Molto belli e originali Anche programmi di cucina Inventati prima del boom Dei programmi di cucina Nelle tifu nazionali Tra l'altro E' solo che appunto racconto la storia di questa TV Ma anche il momento in cui deve fare i conti con la realtà Cioè con internet, la IPTV E le varie piattaforme streaming Ciao 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 Ciao